Le eccellenze industriali di Pesero Urbino continuano a farsi valere ai più alti livelli planetari. È il caso di Fontana Forni, storica azienda di San Lorenzo in campo, leader nei prodotti di cucina a legna e a gas, che ha vinto il Good Design Award, vale a dire il più antico riconoscimento internazionale in fatto di innovazione progettuale ed estetica. Lo ha vinto grazie a Piero, nome del forno che garantisce il passaggio da fuoco di legna a gas in modo immediato, il tutto con un design elegante valso il prestigioso premio che per i concorrenti europei verrà consegnato quest'estate ad Atene. È un grande premio di prestigio, noi lo vediamo un po' da un punto di vista come il coronamento di un impegno aziendale ma anche come una promessa per fare ancora meglio nel futuro. Il Good Design Award è probabilmente assieme al compasso d'oro il premio più prestigioso che abbiamo al mondo. Di sicuro è quello più antico perché è stato creato moltissimi anni fa dalla Università di Architettura di Chicago. Chicago è la città dell'architettura, è la città dove i più grandi architetti al mondo si sono sbizzariti facendosi in concorrenza l'un l'altro nella costruzione della creazione di grattacieli fantastici. Probabilmente Chicago rappresenta uno dei più bei skyline al mondo dal punto di vista architettonico.